Ecco, da amico, devo dirle anche ciò che non condividiamo del suo progetto politico. Abbiamo un avversario interno, ed è il furore progressista che vuole cancellare dall'interno la cultura occidentale e con essa le ragioni del nostro stare insieme. Ma abbiamo anche un nemico esterno, ben più pericoloso, di cui lei non sembra consapevole, ed è l'alleanza tra Cina, Russia, Iran e Corea del Nord, il cosiddetto quartetto del caos che è l'antitesi di qualunque patriota ungherese, europeo, occidentale, l'antitesi della libertà e della bellezza, della giustizia e della democrazia, di quei valori che ci definiscono e che intendiamo difendere come ci insegnarono i ragazzi di Buddha del 1956.